Ciao amici, benvenuti in questa nuova videoteprima dalla redazione, scritti in diretta da Rome Mistyoso, da Lady Blue e dal vostro amico Bomber. Oggi vi presentiamo due giochi sviluppati in contemporanea da Mioio, team cinese che ha creato il famosissimo free-to-play in stile Zelda, Jenshi Impact. Tanto è vero che ha ottenuto un enorme successo e il suo successo gli ha permesso di ricavare tantissimi fondi per sviluppare questi due giochi contemporanea. Il primo si chiama Onkai Star Rail, che è praticamente un RPG a turni, free-to-play, sarà parlato in giapponese, inglese e cinese, forse sarà tradotto anche in italiano, in uscita nel 2023 su PC e mobile, veramente interessante. Il secondo invece è un action RPG chiamato Zenless Zone Zero, anche questo previsto nel 2023 su PC mobile e forse arriverà anche per console, anche questo titolo qua. Su due progetti veramente interessanti perché, come vedete, lo stile grafico di entrambi e quello stile anime che piace ovviamente tantissimo a me e alla mia amica e anche alla maggior parte dei giocatori. Insomma, sarebbe fatto anche bene, sarebbe molto interessante. Questi due giochi li abbiamo messi in lista, qualora dovesse riuscire su console, porteremo di sicuro una recensione. Da tenere d'occhio. Se avete adorato Monster Hunter World e Iceborne e anche Monster Hunter Rise, compreso anche la sua espansione in uscita recentemente, sarete contenti del nuovissimo Hunting Game, sviluppato e prodotto da Electronic Arts e V Omega Force Action RPG in uscita il 17 febbraio 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X, ES e PC. Electronic Arts e V Omega Force hanno presentato un nuovo thriller gameplay di Wild Hearts, un titolo veramente interessante perché dal video hanno fatto vedere che ha un enorme potenziale di esso un concorrente dimostrante. Dal video si vede che, praticamente, il giocatore o i giocatori potranno anche giocare in cooperativa, potranno ovviamente cacciare i mostri, non solo, potranno anche costruirsi l'equipaggiamento in tempo reale, che può essere armi, possono essere anche le trappole, per poter sconfiggere le creature che andrete ovviamente a affrontare. Veramente interessante perché questo gioco qua l'abbiamo messo in lista per portare la recensione unboxing, qualora l'avremo sotto mano, in collaborazione con Game Start. Un titolo da tenere d'occhio ha un enorme potenziale, vedremo. Bene ragazzi, per il momento concludo, la video di prima è stata molto corta, ma comunque tante belle novità. Spero che vi sia piaciuta, il link di iscrizione trovate come sempre nelle solite informazioni della redazione e noi ci vediamo per i prossimi video, non vi preoccupate perché ci stiamo lavorando tantissimo, ci saranno tante bei video, recensione di prima e spettacolesse, con calma li pubblicheremo, non vi preoccupate. E noi ci vediamo alla prossima, bye bye a tutti e grazie come sempre per il vostro supporto. Bella. Grazie a tutti.